Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata dall'alta pressione, infatti vediamo questo campo anticiclonico che interessa gran parte d'Europa coinvolgendo ancora una volta il Mediterraneo garantendo tempo stabile e ben soleggiato. Vediamo infatti la carta della nuvolosità che mostra come l'Italia sia sgombra da nubi praticamente ovunque, qualche addensamento nuvoloso più probabile oltre Alpe ma appunto sul nostro paese dominerà il sole. Vediamo infatti nel dettaglio il tempo che sarà caratterizzato dal sole da nord a sud per gran parte del giorno da segnalare solo qualche banco di nebbia o foschia all'alba e al primo mattino sulla Val Padana ma anche lungo le coste terreniche non esclusa in particolare tra la Liguria e la Toscana ma poi anche sul basso terreno qualche banco nebbioso non mancherà. Le temperature ancora una volta saranno molto miti durante il giorno con punte fino a 18-19 gradi su molte località però tenderanno a calare nella seconda parte di sabato per l'arrivo di aria un po' più fresca da est. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.